Marco Piscopo alla fine di Molfetta Ravenna 3-2, vittoria, ma questa è una vittoria storica, Molfetta per la prima volta e ai play-off, che cosa ne pensi della tua carriera di questa cosa? Come pensi? Tanto sono contento da Pugliese che una squadra pugliese faccia i play-off scudetto, che comunque non è una cosa che si vede tutti gli anni, anzi, purtroppo si vede sempre di meno una squadra, soprattutto delle nostre zone, già resistere due anni in Super Rega, in più fare play-off al secondo anno non è poco, Io sinceramente la mia carriera ho avuto gioia, ho avuto dolori, questa è una grande gioia, quest'anno sinceramente sono un po' dispiaciuto perché l'ho partito molto bene, poi un infortunio, poi l'altro, mi ha costretto dove sono adesso, però cerco di dare il mio apporto alla squadra, devo ringraziare la società che dopo l'infortunio alla mano in un giorno ero già sotto la sala operatoria e quindi sono molto contento, e questa vittoria se la merita, questo parazzetto, questi giocatori, questi tifosi, questa società e la Puglia intera e il Sud intero essendo l'unica squadra del Sud. Grazie!